Ben trovati spettatori e spettatrici, buongiorno, nuovo appuntamento con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa. Al centro di tutto in Europa e Italia c'è il rincaro dei prezzi energetici. L'Unione Europea dice di essere pronta per intervenire e arginare la questione, è intervenuta la stessa Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, che annuncia un vertice tra i ministri dell'energia previsto per il prossimo 9 settembre. Tra l'altro si sta valutando il cosiddetto Price Cup. L'argomento chiaramente viene trattato in campagna elettorale in Italia verso il voto del 25 settembre. I leader dei partiti politici fanno a gara a dire che cosa si deve fare, qual è la soluzione migliore, mentre il governo dal canto suo frena sui tempi ed è sulla stessa linea delle istituzioni europee. Questo è l'argomento più importante che troviamo sulle prime pagine dei giornali e all'interno dei giornali di oggi, martedì 30 agosto, ma si parla anche della questione nucleare, della centrale nucleare più grande d'Europa a Zaporizia in Ucraina. Arriva lì una commissione internazionale di esperti che si occuperanno proprio di garantire sicurezza all'area. Tra loro, tra gli altri, c'è anche un italiano, si chiama Massimo Aparo. Come di consueto cominciamo la nostra rassegna stampa leggendo la prima pagina del Corriere della Sera, il cui titolo principale, lo vedete voi stessi, è Spinta per il tetto al gas, tregua e abbraccio tra Meloni e Salvini. Letta è la sfida dei voti al nord. Il Corriere racconta oggi l'emergenza in Europa, l'apertura di Berlino, l'ipotesi di sganciare i prezzi di elettricità e metano. Qualcosa adesso si muove. Dopo le richieste dell'Italia a un tetto al prezzo del gas arrivano le prime aperture da Berlino. L'Unione Europea sta lavorando a un intervento di emergenza e a una riforma strutturale, dice la Presidente von der Leyen. L'ipotesi è quella di sganciare i prezzi dell'elettricità da quelli del metano. E in Italia il governo cerca fondi per bollette e imprese, il nodo dello scostamento di bilancio. Continua la campagna elettorale, abbraccio e tregua tra Salvini e Meloni, ma le distanze restano. La sfida dei voti del nord per Letta, prima tappa il Veneto. Poi Milano e Adolfo Urso dice no alle commissioni d'inchiesta. In Gerenze c'è il Copasir, sul caso Russia Urso dice no a commissioni d'inchiesta. E poi Cattaneo e il Decalogo di Forza Italia, i look da candidati ideali. Il GIF di Silvio è 30 pagine, look e postura. Cattaneo insegna come si vince, ne parla Virginia Piccolillo. Poi a centropagina, addio all'uomo più solo del mondo. Era conosciuto come l'uomo della buca ed ha vissuto in solitudine per 26 anni. Era l'ultimo superstite del territorio indigeno di Tanaru in Amazzonia. Il resto della sua tribù è stato massacrato dagli elevatori che volevano espandere i pascoli. Poi chiaramente si parla, come vi dicevo in apertura, di guerra, raid su Zaporizia e Kiev attacca a sud, gli ispettori Aiea diretti alla centrale. Le bombe cadono anche sul tetto della centrale di Zaporizia, scrive Lorenzo Cremonesi. Mosca accusa Kiev che però smentisce il rischio di fughe radioattive. Resta concreto, per questo è partita la missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Controllerà il sito nucleare, sono 14 gli esperti chiamati a verificare lo stato dei sei reattori per scongiurare così il rischio di incidenti. Intanto si infiamma la battaglia a sud, gli ucraini hanno sfondato le prime linee verso Kherson che è nelle mani dell'esercito di Putin. Le granate russe tornano a colpire duro anche nel centro della città di Mico Life. Il super esperto di armi atomiche, Aparo, l'italiano nel team, ha 69 anni e romano di adozione, ha gestito il dossier Iran e trattato nell'ombra con gli stati Canaglia. Lo vediamo in foto, seppure piccola. E poi il dossier Caro Energia, le aziende che scelgono di non riaprire. A 48 anni, l'Enea Gatto della CGL di Modena si è regalata una crociera con il marito per i 30 anni di matrimonio. Gli arcipelaghi, i greci, bellissimi. Sole elemento che si è insinuato a turbare la vacanza è il telefono della sindacalista. La settimana scorsa ha iniziato a riempirsi di messaggi. A ferie è ancora da finire. In una delle province più ricche d'Italia, 13 aziende stavano già chiedendo di avviare la cassa integrazione. Per loro produrre con questi costi del gas serve solo a perdere soldi. Meglio fermarsi. Passiamo alla prima pagina della Repubblica, che titola sul negoziato sull'energia. Gas ora a Berlino apre. La Germania pronta a discutere la proposta italiana di tetto europeo al prezzo del metano. Decisivo il summit del 9 settembre. Ursula von der Leyen con la riforma del mercato europeo abbasseremo le tariffe. Quotazioni giù del 20%. Orlando, la tassa sugli extra profitti può salire anche oltre il 25%. Chiaramente anche su Repubblica si parla di guerra. Nel sud dell'Ucraina. Kiev lancia a Kherson l'offensiva antirussa. C'è anche l'intervento del docente di intelligence. Spie. Una guerra sempre più sporca. E poi si parla anche di sport. L'ultimo torneo di Serena Williams che ha vinto 23 tornei del grande slam. Il Williams è il canto del cigno nero diventato l'idolo dell'America. E poi in spalla le elezioni. Il Partito Popolare europeo sdogana Meloni ma prova a bloccare Salvini. La svolta del PPE ci sarà domani. A Roma una sorta di doppio passo. Endorsement implicito nei confronti di Giorgia Meloni e richiesta di rendere più moderata la coalizione. Poi Stefano Cappellini. Le manovre del centrodestra su Mattarella. La destra ha un problema con Sergio Mattarella. La domanda è ormai legittima visti i numerosi tentativi di trascinare il capo dello Stato in campagna elettorale. Infine il virus della democrazia plebiscitaria di Carlo Galli. Una costante di questa campagna elettorale è una doppia perentoria richiesta di Giorgia Meloni. Una diretta rivolta ai suoi alleati perché accettino la regola che sia indicato al Colle come Premier, il leader del partito con più voti. Passiamo alla stampa. Il giornale di Torino che titola invece gas alle stelle. Si muove l'Europa. Von der Leyen avverte. Prepariamoci alla chiusura dei rubinetti russi. Accelerazione sul tetto ai prezzi. In arrivo il piano per sfuggire alla dipendenza da Mosca e rendere inefficaci le manovre speculative dei trader. Oggi sulla stampa l'intervista a Di Maio un taglia bollette da 13 miliardi. Questa la sua proposta. Ne parla Federico Capurso. La crisi del gas, l'emergenza bollette, l'inflazione. La campagna elettorale entra nel vivo. Toccando temi che stanno incidendo pesantemente sulla vita delle persone. Nell'intervista con il direttore della stampa Massimo Giannini, Luigi Di Maio propone una misura taglia bollette che costerà circa 13,5 miliardi. A centro pagina poi, ciao papà, il saluto della figlia di Alberto Balocco. Lei è diletta, fortunati ad averti avuto, così scrive nella lettera. Poi in spalla la storia, la gentilezza, arte marziale contro l'eliti di Gianrico Carofiglio. E poi il racconto, se una clip su TikTok conta più di un figlio. Il bambino con il costume giallo siede alla guida del motoscafo lanciato a tutta velocità. Ogni tanto prova a mettersi in piedi per scrutare l'orizzonte. E la storia che racconta Viola Ardone. Poi il caso, Nedved Sannamarin e i video trappola di Gianluca Nicoletti. Il privato è un rimasuglio del passato. Non avremmo più una zona riservata in cui coltivare lontano da occhi estranei i nostri legittimi momenti di relax. Nel taglio basso la polemica alla didattica a distanza. Il sabato un delitto, la scuola e partecipazione. Il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi sostiene che la scuola deve partecipare al risparmio energetico e che il sabato le elezioni in presenza possono essere sostituite con la DAD. Giusta l'idea del risparmio, ma sulla soluzione non ci siamo. Introduciamo piuttosto la settimana corta. Passiamo ad avvenire il giornale dei Vescovi italiani. Che titola? Gas suona l'eurosveglia. La presidente della commissione von der Leyen prepararsi a un blocco. Dalla Russia, il 9 settembre, vertice straordinario, si pensa di sganciare i prezzi dell'energia da quelli del metano. Berlino apre al Price Cup. Il governo prende tempo e aspetta Bruxelles. Draghi verso un confronto con i partiti, ma escluse misure drastiche per le scuole. L'Europa si prepara al peggio sul fronte del gas. Nell'imminenza della sospensione, annunciata da Gazprom ufficialmente, per ora per tre giorni, a partire da domani, dei rifornimenti attraverso il gasdotto Nord Stream 1. Dobbiamo prepararci a una potenziale interruzione totale del gas russo, ha avvertito la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel tutto, mentre il sempre più virulento ex presidente russo, ora vicepresidente del Consiglio di Sicurezza di Mosca, Medvedev, lancia un nuovo affondo ai capi di Stato e di governo dei paesi europei, ha dichiarato via Telegram, in relazione all'aumento dei prezzi del gas a 3.500 euro per 1.000 metri cubici, sono costretto a rivedere al rialzo le previsioni sui prezzi a 5.000 euro entro la fine del 2022. Chiaramente si parla di guerra, bombe sul tetto, paura alla centrale, in Ucraina arrivano gli ispettori dell'Agenzia Atomica e poi chiaramente delle lezioni, il blocco navale divide Fratelli d'Italia e Salvini, il nodo premier, l'intervista a Binetti, noi centro, fermeremo le leggi sull'eutanasia e poi i programmi, il libro dei sogni per la scuola e il caso materne. L'avvenire racconta della visita di Papa Francesco all'Aquila per donanza prolungata, dialogo Papa-Cardinali, il dono dell'Aquila al Papa è una straordinaria partecipazione dei fedeli, oltre 20.000 persone, quasi il doppio del previsto, hanno assistito alle diverse tappe della breve visita, ma ancora più straordinario è il dono del Papa all'Aquila, un anno intero di perdonanza, l'indulgenza plenaria si potrà conseguire questa volta, fino alla perdonanza del 2023. Passiamo alla giornale di Confindustria, il sole 24 ore, che titola, titoli di Stato, fiammata dei rendimenti, il BTP punta verso il 4%, oggi aste per 8 miliardi, aumento anche per il Bund. Il capo economista della BCE, Lein, frena sul rialzo dei tassi, i mercati sono per un maxi aumento. E poi, gas e luce, Bruxelles prepara un piano per separare i prezzi, price cap, fronte del sì, più largo. Riunione straordinaria dei ministri dell'energia in programma il 9 settembre. Si fa strada nell'Unione Europea, l'ipotesi di disaccoppiare il prezzo dell'elettricità da quello del gas, ne discuteranno i ministri dell'energia in una riunione straordinaria convocata per il 9 settembre, favorevole anche la Germania sul tavolo, anche il tetto al prezzo del gas, su cui finora non c'è stato accordo. A centropagina, manovre Russia, Cina, India, Taiwan, navi degli Stati Uniti nello stretto. E in foto vediamo un cacciatorpediniere americano nello stretto di Taiwan. In spalla, criminalità finanziaria, Germania, nuova authority, estretta contro il riciclaggio. Passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, che nel suo titolo principale scrive, gas, mossa dell'Unione Europea, ma è allarmi rincari, federalberghi, bollette impazzite, così chiudiamo. Il governo Draghi a caccia di fondi per un piano di interventi urgenti da 20 miliardi. La Gazzetta oggi parla anche del triste anniversario, 31 agosto 1997-2022, il fantasma di Diana e l'autunno dei Windsor. Furono i giorni del dolore e della rabbia, scrive Antonio Caprarica, alle 4.41 del 31 agosto 1997, l'anchor Nick Gowing, con voce incrinata dall'emozione, annunciava dagli schermi della BBC che la principessa di Galles, non più altezza reale per decreto della vendicativa ex suocera, era morta a Parigi in un incidente stradale sotto il tunnel dell'Alma. La stragrande maggioranza degli inglesi era ancora a letto, ma quando si svegliò un paio d'ore dopo, trovò sul teleschermo un'immagine scioccante, un malinconico primo piano in bianco e nero di Diana e a fianco due date, 1961-1997. La musica di Bach in sottofondo diceva il resto. Da quel momento fu come se un ruggito sordo salisse sempre più forte dalle viscere della società britannica per rompere nell'incontenibile ondata umana che sommergeva le strade di Londra, arrestandosi infine tra i singhiozzi davanti a Kensington Palace. Nel giro di poche ore, sotto i nostri occhi di cronisti, il prato davanti all'antica reggia di Guglielmo III si trasformò in uno sterminato sacrario floreale. L'Inghilterra e il mondo non avevano mai visto niente di simile, ci fu a Londra chi teme l'inizio di una rivoluzione. In prima pagina si parla anche di calcio, Bari punta in alto, Lecce cerca il colpo, stasera torna in campo la Serie A. E poi protezione civile, l'erario stabiliva lavori e imprese, parla l'imprenditore arrestato, l'ex capo della protezione civile Mario Lerario avrebbe fatto eseguire lavori agli appaltatori anche in assenza di autorizzazioni e impegni di spesa. A raccontarlo, alla Guardia di Finanza è stato uno dei due imprenditori arrestati insieme all'allora dirigente. Passiamo alla prima pagina dell'edicola del Sud, quella dedicata a Bari. Bollette e prezzi alle stelle, il crimine, bus alla porta, magistrati, sociologi e manager concordi, la crisi fa delle aziende la preda della malavita. E poi più verde e panchine, la fiera del Levante si rifà il look, la campagna elettorale, il Movimento 5 Stelle presenta le liste sinistra, patti da rivedere. C'è anche l'SOS della Lega, fate presto e aiutate l'agricoltura e l'inchiesta, fondi sanitari al Sud, solo briciole. Infine il dossier consumi, su ma lontani dai dati del 2019. Passiamo al Messaggero, giornale di Roma, che titola Gas 10 giorni per gli aiuti, l'intervento di Draghi solo dopo il Consiglio europeo del 9 settembre, ma c'è la proroga degli sconti sulla benzina, sì di Germania e von der Leyen, alla proposta italiana contro il caro Energia, costi giù del 30%. La campagna elettorale in Italia, Meloni e Salvini a braccio a Messina, uniti sul ponte ma divisi sui migranti, la leader di Fratelli d'Italia e per il blocco navale no di Lega e Forza Italia. A Messina va in scena l'abbraccio tra Meloni e Salvini, uniti sul ponte, è necessario ma distanti sui migranti, il leader della Lega e il blocco navale non serve per Giorgia, invece è la cosa più sensata, i due alleati a pranzo insieme, nessun derby, l'ex ministro, lei premier e la democrazia. E poi, bollette alle stelle se gli utenti fanno a meno della politica di Mario Aiello e il tema legato alla giustizia, una riforma da completare, CSM e assunzioni, i nodi del dopo voto, fondi PNRR legati allo snellimento dei processi. A centropagina la musica, lo spettacolo, maneskin, vittoria e censura, trionfo del gruppo agli MTV Awards, ma la regia oscura ai sexy Damiano e Victoria. Ancora, tessere senza chip, visite a rischio per cliniche ASL, la protesta delle aziende sanitarie, lo stop alla digitalizzazione, ostacola le prenotazioni. Scoppia il caso delle nuove tessere sanitarie senza microchip e dopo la denuncia del messaggero emergono i disagi di quei cittadini che con queste tessere non possono più accedere ad una serie di servizi pubblici online, come le visite specialistiche o l'ingresso sulle piattaforme della PA. Con la firma digitale protestano le ASL e l'associazione che raggruppa cliniche e ospedali privati. Si parla anche di criptovalute, il bitcoin infatti crolla sotto quota 20.000. Infine nel taglio basso la cronaca uccide il marito e getta il corpo nel fiume. Aveva un amante, l'ho fatto a pezzi dichiara. Confessando IPM è accaduto a Rovigo, in realtà la rivale non esisteva. Passiamo al mattino, giornale di Napoli, che titola Energie e Gas, scatto dell'Unione Europea, si va verso lo sganciamento dei prezzi, von der Leyen serve una riforma strutturale del mercato, Draghi dieci giorni per gli aiuti, vuole attendere il Consiglio Europeo, benzina proroga degli sconti. Sul mattino troviamo anche la cronaca a Napoli via Caracciolo come un circuito. Giovane, uccisa, folle corsa in moto senza patente, 34enne, travolta. Il comune ha un solo autovelox in manutenzione. Travolta e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali da una moto lanciata a tutta velocità su via Caracciolo da un centauro senza patente. Il comune di Napoli ha un solo autovelox ed è in manutenzione. Nel taglio basso invece lo sport, offese a spalletti, niente scuse, così il calcio non crescerà mai. Insulti al tecnico, silenzio viola, Fabian al Paris Saint Germain. Ogni volta che si gioca qui accade lo stesso, il pubblico di Firenze è di una maleducazione incredibile, avrebbe dichiarato. Ogni volta accade lo stesso e c'è chi continua a fare finta di niente. E nei fotogrammi, nella sequenza, il tifoso che sferra lo schiaffo a spalletti è la bottiglietta che lo colpisce. Passiamo alla prima pagina del Quotidiano del Sud che invece titola Ridateci l'unità nazionale, la rivincita dell'economia sulla politica, la forza delle emergenze riunisce i partiti, perfino la Meloni che è all'opposizione d'accordo. Eccetto Fratoianni, Paragone, De Magistris e un altro po' di frattaglie, sono tutti d'accordo con Draghi perché è sparita anche l'opposizione di destra. Perché tutti hanno finalmente capito la gravità della situazione energetica che è resa esponenziale dalla follia della campagna elettorale che incorpora il moltiplicatore micidiale del rischio politico. In questo momento la paura fa 90 ed è questo il motivo per cui scopriamo che tutti si sono allineati. Perché tutti quelli che ragionano un minimo si sono improvvisamente accorti che sono sull'orlo del burrone. I partiti riducano al minimo il danno derivante dell'indebolimento politico di Draghi sostenendolo a viso aperto e mandandolo in Europa ai prossimi vertici internazionali, non come quello che ha la valigia in mano ma come colui che è il punto di riferimento del Paese al di là, al di sopra di tutte le parti e di tutte le faziosità, così il quotidiano del Sud. A me non resta altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata e buon proseguimento con i programmi della rete.